L'olio essenziale di menta indicato per tutte le patologie gastrointestinali, dunque un antisettico dell'intestino in caso di coliti, in caso di gastriti, digestione difficile, mi si blocca la digestione, dunque va a stimolare appunto la digestione facendo anche dei massaggi circolari sulla pancia, sempre con un olio vettore che può essere l'olio di mandorle con un paio di gocce di olio essenziale di menta. Può essere indicato per meteorismo, aereofagia, flatulenza, vomito e nausea che può essere inalato con un fazzoletto, un paio di gocce in caso di viaggi in aereo, in macchina. Può essere anche utilizzato per andare a trattare piccoli problemi della bocca, anche in caso di tosse, è comunque un espettorante, va a calmare la tosse, si può utilizzare in caso di vertigini, cefalee, emicranie, un paio di gocce, con un olio vettore oppure direttamente massaggiate sul cuoio capelluto, nelle tempie oppure due centimetri sopra le orecchie. Grazie 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 Grazie